Iniziano finalmente i lavori di manutenzione allo stadio Vincenzo Presti. Dopo la chiusura avvenuta sotto l'amministrazione messinese e dopo il rinvi del commissario Arena, oggi hanno preso il via i lavori per il posizionamento della gradinata che avrà una capienza di circa 300 possesse d'ere e a breve inizieranno le opere di smantellamento della tettoia, motivo di inagibilità. Gli interventi previsti prima della riapertura riguarderanno varie aree dell'impianto sportivo. Ci sono in programma diversi interventi, come già abbiamo specificato in tante altre occasioni. Iniziamo oggi con il montaggio della gradinata. All'epoca, qualche tempo fa, ha commissionato questa fornitura che viene eseguita oggi. Sarà montata nel giro di pochi giorni, per cui inizieremo dalla gradinata. Stiamo già per pubblicare l'avviso per quanto riguarda la decostruzione della tettoia, che è stato uno dei motivi più rilevanti che hanno determinato l'inagibilità dello stadio. Abbiamo avuto già un'interlocuzione con il Genio Civile e i Vigili del Fuoco provinciali e che sono quelli che i petenti in qualche modo dovranno poi alla fine esprimere in sede di commissione il parere per l'agibilità dello stadio. Abbiamo anche concordato le procedure e i lavori da eseguire. Per cui nell'ordine. Iniziamo oggi con la gradinata. Stiamo rispettando i tempi che avevamo già stabilito. Di questo sono contento, anche perché nel lavorare può succedere sempre in qualche inconveniente. Invece siamo qui oggi a realizzare questo montaggio. Dopodiché a breve, da qui a giorni, faremo in modo di affidare e iniziare anche i lavori di decostruzione della tettoia. A seguire nel corso del mese di agosto, in parallelo, non prima e dopo, si interverrà sul fondo campo, ma è un intervento tutto sommato semplice e poi interventi di manutenzione generale di carattere edilizio che sono praticamente i bagni, gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, diciamo tutte quelle cose che in qualche modo rendono efficiente lo stadio. Mancano oramai poche ore alla scadenza fissata dall'orgono competente per il risanamento della documentazione relativa all'iscrizione al prossimo campionato di Serie D presentata dalla proprietà del Gela Calcio, proprietà che nella figura di Angelo Mendela si è detta più volte pronta a cedere il club a zero. Dopo una riunione in cui si erano palesati alcuni imprenditori pronti a sostenere la causa Gela Calcio, la situazione adesso sembra in stallo e si aspettano novità anche da parte dell'attuale dirigenza. Il sindaco Lucio Greco si dice soddisfatto della via dei lavori e aperto al dialogo con la società. Quella di oggi è una risposta a un mondo che è quello dello sport, agli amanti del calcio per confermare che quello che abbiamo detto in questi mesi e cioè dire che noi stavamo lavorando per rendere fruibile e utilizzabile il Vincenzo Presti alla città, agli amanti del calcio ad inizio campionato la struttura sportiva lo stiamo dimostrando con i fatti. Questa è la conferma. Oggi come state vedendo stanno iniziando i lavori, abbiamo lavorato alla cremente. noi, ma devo dire anche gli uffici, i dirigenti, assieme abbiamo fatto un lavoro e siamo riusciti a dare un risultato che è quello che state vedendo e cioè un fatto concreto di poter iniziare i lavori e far sì che a inizio campionato la struttura sarà fruibile e utilizzabile, speriamo, dal Gela Calcio nella categoria che merita.